Terza e ultima parte della nostra monografia dedicata a Erwin Rommel. Dopo aver affrontato nel primo capitolo le sue origini militari e anche personali, il suo matrimonio, i successi nella Grande Guerra, il suo ruolo all'interno della Reichwer e la sua ascesa militare, dopo aver affrontato tutto il capitolo dell'Africa settentrionale con la nascita del mito della Volpe del Deserto, oggi arriviamo all'ultimo capitolo della sua vita, un capitolo che tratta non solo delle accuse di aver partecipato al complotto del 20 luglio del 44, non solo la sua morte per suicidio, ma anche la sua personalità a livello politico. Abbiamo deciso di intitolare quest'ultima parte della monografia Rommel, nazista o oppositore. Quando a Rastenburg, alla Wolfschanze, esplode la bomba al plastico posizionata dal colonnello von Stauffenberg, Erwin Rommel è a casa, in convalescenza. Tre giorni prima, un aereo della Raff ha mitragliato la sua vettura in Francia e lo ha colpito, lo ha colpito causandogli una frattura al cranio, frattura allo zigomo, una ferita all'occhio e altre contusioni. In quel momento Erwin Rommel non è assolutamente parte del complotto del 20 luglio, anche se probabilmente qualcosa ha sentito. D'altronde il suo diretto superiore in Francia, von Stülpnagel, fa parte del complotto. È il governatore militare in Francia, ha garantito agli uomini dell'operazione Valkyria di prendere il controllo di Parigi e delle aree circostanti, arrestando l'SS e garantendo l'ordine. Von Stülpnagel verrà scoperto, trasportato a Berlino e nel corso del viaggio tenterà di suicidarsi, poi verrà ucciso comunque dalle sue guardie. Rommel invece trascorre tutta l'estate del 44 in convalescenza. In quel periodo, mentre si susseguono gli arresti, le torture, gli interrogatori, i processi sommari e le prime esecuzioni, si si interroga sul suo ruolo. Qualcuno dello staff di Stülpnagel ha fatto il suo nome, il nome del Fendt maresciallo, come simpatizzante della causa di von Stülpnagel e degli altri. Simpatizzante può dire tutto, può dire niente. E' questo il problema. Un complotto che vede la partecipazione attiva di un centinaio di persone coinvolgerà come vittime 5.000 unità, 50 volte tanto. Ancora oggi ci si domanda se la furia di Hitler e dei suoi scherani nel trovare i colpevoli e dare una lezione esemplare non abbia coinvolto anche degli innocenti, persone che assolutamente non avevano nulla a che fare con la macchinazione, e che si ritrovarono semplicemente ad aver detto una parola di troppo o ad essere stati contigui a qualcuno che aveva effettivamente partecipato al complotto. Trato sta che per accertare le colpe o eventuali colpe di Erwin Rommel si era riunita una corte militare d'onore, composta da diversi ufficiali d'alto grado. Tra questi, Gerd von Rundstedt, il decano dei generali tedeschi. Heinz Guderian, un allievo diretto di von Secht, che era stato il padre delle truppe corazzate, che però aveva perso prestigio al punto di essere trasferito alla sovrintendenza alle panzertruppe, senza più un ruolo operativo sul campo. E poi un altro generale più oscuro, Heinrich Kierkeim, un generale che con grado inferiore aveva servito proprio sotto Rommel in Africa settentrionale nel 1941 e che era stato uno degli ufficiali che avevano deluso le aspettative di Rommel nel tentativo di prendere Tobruk. Forse Kierkeim aveva qualche riserva nei confronti di Rommel. Forse anche Guderian non aveva una grande o assoluta fiducia in Rommel. Von Rundstedt, da quello che si sa, aveva tutt'altre idee. Non gli piaceva il carattere di Rommel, ma ne riconosceva il genio e soprattutto non dubitava assolutamente del fatto che potesse aver partecipato a un complotto per rovesciare il regime. Ma Rommel era nazista? Secondo tutto quello che è stato studiato nel tempo, tutti i documenti e le testimonianze, Erwin Rommel non ha mai preso la tessera del partito nazista, quindi non lo si può definire effettivamente un nazista. Era un soldato, questo sì, era un soldato che bramava a fare carriera. Anche questo è vero, lo si evince dalle tante, tantissime lettere che aveva scritto alla moglie Luzie già in Africa, quando le scriveva di essere diventato ben più che un comandante di divisione, quando le scriveva che stava aspettando il bastone da Feldmaresciallo e che dopo averlo ottenuto si era lamentato con lei, dicendo che avrebbe preferito avere un paio di divisioni in più, rinunciando a quel bastone. Insomma, il ritratto che esce dalle testimonianze di chi ha conosciuto molto da vicino Erwin Rommel, i suoi più stretti collaboratori, Eierlein, ma anche Krüvel, così come i suoi familiari, la moglie, il figlio Maffred, ma anche qualche detrattore come Geir von Schweppenburg, che non era convinto delle idee tattiche di Rommel, oppure del generale Hans Speidel, che forse sì, aveva avuto un piccolo ruolo nel complotto, ma che è stato uno dei pochi a salvare la pelle. Tutte queste testimonianze tratteggiano un Rommel non nazista, ma nemmeno antinazista. Un Rommel che probabilmente si era servito del regime per fare carriera, probabilmente aveva intravisto ancora, quando era stato nominato comandante del battaglione della guardia personale di Hitler, la possibilità di calare le gerarchie, diventare sempre più in vista e quindi avere un grado sempre maggiore, semplicemente dando ragione al piccolo caporare austriaco, a quel lometto coi baffi che spesso andava in escandescenze, dando ordini a chi aveva un'esperienza militare ben più forte della sua, ben più solida della sua. Ecco, Erwin Rommel non era nazista e non era nemmeno antisemita. Anche questo è qualcosa che è emerso tanto dai suoi carteggi con la moglie quanto dalle testimonianze dirette. Quando era ancora in Francia nel 1940, Rommel aveva ricevuto la visita del generale von Blaskowicz, suo superiore in grado, un generale di provata esperienza che aveva condotto parte della campagna contro la Polonia, con ottimi risultati tra l'altro. Eppure von Blaskowicz, a differenza di altri sui pari grado, non aveva ricevuto promozioni, non aveva neanche lui ricevuto il bastone da Fed Maresciallo e in quel colloquio con Rommel si era lamentato proprio di questo, dicendo delle parole molto importanti. Aveva riferito von Blaskowicz a Rommel di aver assistito alle prime atrocità delle SS contro la popolazione polacca e contro gli ebrei e le aveva menzionate nei rapporti von Blaskowicz, biasimando quello che aveva visto. Probabilmente era questo, questo particolare, che era costato a von Blaskowicz la promozione. Rommel aveva incassato, secondo alcuni avrebbe anche confermato a von Blaskowicz le proprie idee, cioè fatto che anche a lui dessero fastidio determinate situazioni. Si era anche opposto successivamente alla richiesta giunta dal comando della Polizia Militare e del SS in Francia di fornire un paio di compagnie di fucilieri per rastrellamenti, ma non era andato oltre. Il rifiuto di fornire le compagnie di fuciliere era stato motivato semplicemente per delle esercitazioni. Forse era stata una mossa che lo stesso Rommel aveva deciso di compiere per salvaguardarsi da eventuali situazioni come quelle che avevano riguardato von Blaskowicz. Certo è che anche nella sua militanza in Africa settentrionale Rommel non si era mai lasciato scappare nemmeno un commento antisemita. E dire che era stato molto duro, duro con Cavallero che disprezzava, lo chiamava un passacarte, non un generale, con Bastico chiamato spreciativamente Bombastico, con Gariboldi che secondo lui era poco più che un paio di baffi, con Gastone Gambara, secondo Rommel una sorta di fuggiasco o di imboscato. Era stato duro anche con ufficiali tedeschi, con Streicher, con Kierkeim, con il Fliegerfuehrer Africa von Waldau, cui aveva chiesto il bombardamento dei porti, sentendosi chiedere in maniera sprezzante se avesse inteso invadere la Cirenaica nel giro di 48 ore. Non aveva avuto dei rapporti facili con le persone, Erwin Rommel, però nessuno l'aveva mai sentito pronunciare frasi antisemite e nessuno gli aveva mai sentito chiedere di provvedere a identificare gli eventuali ebrei presenti tra Tripolitania e Cirenaica e provvedere alla loro deportazione. Nemmeno in Italia, nel periodo trascorso del nostro paese come comandante delle truppe occupanti, si era mai preoccupato di questioni riguardanti l'Olocausto. Quindi anche questo è un qualcosa che depone contro la tesi del Rommel nazista, seppur senza tessera. C'è chi dice che Rommel, parlando con Hitler, una volta ne abbia addirittura caldeggiato, se non la candidatura degli ebrei a ruoli all'interno dell'amministrazione nazista, comunque del progetto di migrazione in Palestina, sentendosi rispondere con una battuta un po' pesante da parte dello stesso Hitler. Rommel quindi non possiamo definirlo un nazista, ovviamente non con tessera, ma nemmeno senza tessera. Non credeva nel nazismo, non credeva nelle politiche naziste, ancor meno nelle politiche razziste proprie del nazismo, nonostante fosse diventato un eroe nazista, difeso ad esempio da Goebbels che l'aveva trasformato in una sorta di simulacro, ma versato da Bormann, il suo primo grande detrattore. Erano stati proprio Bormann e Goebbels a decidere le sorti di Erwin Rommel durante quella convalescenza. Bormann insisteva con Hitler perché anche il Feldmaresciallo fosse sottoposto a giudizio, perché anche Rommel riesce ad essere spedito in un'aula di tribunale, come era avvenuto ad esempio per Erwin von Witzleben per essere giudicato dal terribile Freisler, il pubblico ministero e giudice nazista convinto, già partecipante alla conferenza di Vanse, è divenuto noto per le sentenze lampo con cui condannava gli imputati a morte. Goebbels però intervenne in quel caso, fece presente a Hitler che un processo, per quanto rapido, sarebbe stato pubblico e avrebbe generato una tale ondata di dubbi, domande, riprovazione, da causare danni al regime. Rommel era un eroe. Cosa avrebbe pensato il tedesco medio se un eroe fosse stato portato in tribunale accusato di alto tradimento? Come avrebbe reagito il tedesco medio? Sarebbe rimasto in silenzio? Avrebbe accettato ancora una volta la propaganda? Avrebbe ascoltato ancora la voce di Hitler? Oppure si sarebbe posto delle domande? Oppure avrebbe cominciato a dubitare e quindi a sgritolare l'impianto nazista? Per questo motivo Hitler decise per una soluzione alternativa. Decise di inviare a casa di Rommel, che si trovava ancora in convalescenza, due ufficiali di provata pede nazista, non due dell'SS, giusto anche per mandare un segnale quasi distensivo alla famiglia Rommel. Questi generali erano Ernst Meisel e Willem Burgdorf, ufficiali facenti parte della tretta cerchia di consiglieri militari di Hitler. A questi generali era stata fornita una fiala di veleno e l'istruzione di darla a Rommel dopo avergli fatto un preciso discorso. Ebbene, il 14 ottobre del 1944 Meisel e Burgdorf andarono a casa di Erwin Rommel. Lo trovarono ancora in Vestaglia, sofferente per le ferite, non pronto a tornare al suo posto. La moglie, Luzie, intuì subito che qualcosa non andava. E anche il figlio, Manfred, erano tutti e due piuttosto nervosi. Rommel capì in fretta perché quei due ufficiali erano andati a casa sua. Ed ne ebbe conferma in un colloquio successivo, quando Burgdorf gli disse che nei pressi della casa, nella foresta vicina, si era appostata una compagnia di fanteria con due panzer di rinforzo, per sorvegliare la situazione, neanche ci fosse un pericolo di fuga nel Feldmaresciallo. E che l'alternativa era tra il processo pubblico, con le accuse anche alla famiglia, la perdita di ogni privilegio e il suicidio, che invece avrebbe provocato funerali di Stato, il mantenimento di ogni privilegio per la sua famiglia e soprattutto la protezione per i suoi cari, che non sarebbero mai stati toccati neanche dalla minima accusa di tradimento. Rommel non impiegò moltissimo a decidere, anzi, la sua decisione fu abbastanza rapida. Si congelò dalla moglie e dal figlio, disse loro di non preoccuparsi. Salì in macchina con Burgdorf e Meisel sul sedile posteriore. L'auto invece qualche chilometro si addentrò nel bosco, dove Rommel prese la fiala di veleno e lì morì nel giro di nemmeno un minuto. Al ritorno a casa, il generale Burgdorf comunicò a Luzie la morte del marito. Da quel momento si dovette inscenare una farsa. La morte non per suicidio, per avvelenamento, ma per conseguenza delle ferite patite tre mesi prima in Francia. Ne ha messi in scena, anche abbastanza macabra. Non tutti bevero la balla della morte per ferite. Anzi, più di qualcuno, senza comunque dire nulla, capì che si trattava solo di una messa in scena per salvare da un lato la famiglia Rommel e dall'altro il regime, che altrimenti sarebbe stato messo in discussione. I funerali, solenni, militari, con gli onori di Stato, videro la partecipazione non di Hitler, ma di Gerd von Rundstedt. Fu lui a essere scelto per leggere l'orazione funebre. Un'orazione funebre che era una sorta di testamento militare, ma anche morale, della vecchia volpe del deserto. Un testamento che dava a Rommel anche qualche merito in più rispetto a quello che aveva effettivamente avuto sul campo, nascondendo le pecche che gli erano state sottolineate, i vari richiami per insubordinazione, per aver esagerato o addirittura per gli errori commessi nelle scelte tattiche e strategiche. Bisognerà attendere la fine della guerra per la pubblicazione delle lettere alla moglie e dei suoi diari. I diari scritti soprattutto durante l'esperienza in Francia e in Africa settentrionale. Diari che sono diventati la base per una grande opera di ricerca storica. In tanti si sono dedicati a studiare la figura di Erwin Rommel, una figura complessa di quel ufficiale che sapeva adattarsi alla situazione, del genio senza regole, del demone della velocità, della volpe del deserto, che però sapeva adattarsi anche a costruire etane, anche a organizzare trappole e non solo a colpire di rapina velocemente. Erwin Rommel è sepolto nel cimitero di Erlingen, la sua città, e quella tomba per tanti anni è stata visitata dai re duci dell'Africa Corps, della Panzer Armée Africa, dei reparti da lui comandati, anche da alcuni veterani italiani dell'Africa e da alcuni avversari, soprattutto inglesi. Erano degli omaggi postumi a quello che è stato un soldato, forse anche qualcosa di più. Un simbolo, valido da ambo le parti, di un uomo che venne affascinato da un nuovo modo di concepire e condurre la guerra e che, per onore ma soprattutto per amore della famiglia, decise alla fine di sacrificarsi. Grazie per la visione!